Bentornati amici e amici di Ceramica per Tutti, oggi un nuovo video sul tornio. Vedremo insieme come creare delle forme chiuse sul nostro tornio super economico, come al solito vi lascio il link per acquistarlo in descrizione, e vedremo come effettuare, appunto, come realizzare delle forme chiuse e realizzeremo una forma conica, una un po' più sferica e l'altra un cilindro completamente chiuso. Mettiamoci al tornio e vediamo com'è facile. Allora, passiamo alla prima forma chiusa, quella che ritengo più facile, ovvero il cono. Per le altre operazioni di centratura, apertura e innalzamento vi rimando ai video precedenti. Quindi procediamo con la centratura, innalziamo, andiamo verso il basso, stringiamo, centriamo, voilà. Abbassiamo un po' con la velocità del tornio e operiamo l'apertura, ve la faccio vedere così, in questo modo qui, arriviamo più o meno a poco meno di un centimetro dal fondo, tiriamo verso di noi, in questo modo qui, voilà. Quindi controlliamo la base e richiudiamo, richiudiamo verso il centro, mignolo sempre che forma un incavo qui, vedete, e iniziamo l'innalzamento delle pareti. Come al solito, stringiamo dalla base verso l'alto. Ora, siccome vogliamo una forma chiusa, lasciamo più argilla sul bordo, vedremo dopo il perché. Quindi richiudiamo un poco, in questo modo qui, strozziamo l'argilla, ripetiamo, rimettiamo le mani sul fondo, creiamo l'incavo, bagniamo un poco, se vogliamo anche con la nocca, portiamo su le pareti, e intanto spingiamo verso il centro, facciamo una spinta verso il centro. Richiudiamo così, richiudiamo le nostre mani, e vedete, lasciamo sempre un bel po' di argilla qui sul bordo. Ripartiamo da sotto, se le nostre mani arrivano sotto, le mani interne, quindi portiamo l'argilla dal basso verso l'alto, stringiamo e andiamo verso il centro. Adesso che facciamo? Adesso richiudiamo il nostro bordo, quindi richiudiamolo il più possibile, vedremo che qui sarà più spesso, quindi iniziamo la fase di innalzamento da qui. Quindi portiamo su, portiamo l'argilla in eccesso verso l'alto, ma lasciamo sempre il bordo più spesso. E adesso direi che siamo pronti quasi per chiudere completamente. Quindi vedete, stringiamo in questo modo qui, risolleviamo per l'ultima volta, portiamo un po' di argilla verso l'alto, in questo modo qui, e siamo pronti a chiudere questa forma, quindi stringeremo sempre di più verso l'alto, fino a stringere completamente il nostro cono. Proviamo, qui, 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 stringiamo, chiudiamo, 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 ok. E vedete, abbiamo chiuso la forma, possiamo rifinirla un pochino, in questo modo qui. Se lasciamo un po' più di argilla sulla punta, possiamo anche decidere, per esempio, nel caso dei salvadanai, di fare un pomello. Quindi possiamo scegliere di stringere, per esempio, spingere un poco verso il basso, stringere qui, e appunto avere la forma del pomello. Potrebbe essere sia per i salvadanai, se fosse un po' più bombato, oppure in questo modo per una campanella. In questo modo qui. Quindi siamo pronti per un'altra tecnica. Allora, in questo tentativo andremo a fare una forma chiusa, più sferica. Come al solito ho centrato, adesso procedo all'apertura. Qui il torneo può andare anche con questa velocità qui. Una volta che sono arrivato a 7-8 mm dal fondo, posso richiudere. Quindi riporto verso l'interno. E quando farò l'innalzamento, non andrò né dritto, quindi dritto, né verso il centro, ma darò una forma più curva, come se disegnassi una C con la mia argilla. nell'aria con l'argilla. Faccio il primo innalzamento e faccio un poco questa C, lascio sempre più argilla qui sul bordo superiore. Richiudo. Ricomincio qui dal fondo. Al fondo spingo un po' di più, quindi salendo disegno questa C fino a qui e poi rientro dentro, lasciando sempre il bordo più spesso. Richiudo un poco il bordo superiore. Vedete così? Controllo di nuovo le mie pareti, quindi parto da giù. Dove c'è più argilla la spingo verso l'alto, continuando a fare la mia C e la richiudo in questo modo qui. Adesso tolgo un po' d'acqua, togliamo un po' d'acqua da sotto e dall'interno. Man mano che andiamo a chiudere, togliamo l'acqua da dentro perché altrimenti non riusciamo poi più a toglierla. Stringiamo il bordo superiore, controlliamo la curva, qui c'è un po' più di argilla, quindi la posso spingere verso il centro, lascio qui più spesso e inizio a chiudere completamente la mia sfera, come ho fatto prima con il cono. Arrivo in questo modo qua, ricontrollo un po' la curva, in questo modo qui, qui c'è più argilla, la spingo verso il centro e sono pronto a chiudere la mia sfera. Ultimo controllo qui e posso chiudere e tolgo un po', vedete, mi avanza tutta questa parte qui che io posso togliere se voglio una sfera o lasciare se voglio un pomello. Quindi in questo caso la togliamo, quindi la stacchiamo, basta stringere un poco, ne togliamo ancora un altro poco, in questo modo qua e arrotondiamo la nostra sfera premendo qui sulla punta. Vedete, io spingo qui sulla punta e chiaramente lei si svasa un pochino, quindi dobbiamo tenere in conto anche questa cosa per la forma finale della nostra sfera. possiamo togliere l'acqua e con la nostra spatola possiamo rifinire la curva. Piegando un poco la spatola a formare quella C noi possiamo ridare un po' la curva di questa sfera. se la volessimo più piatta basta spingere un po' più qui, quindi spingo un po' più, un po' di più e lei si abbassa, vedete, e sono pronto per staccarla. con questa terza e ultima forma voglio farvi vedere come fare un cilindro completamente chiuso, quindi io ho fatto la centratura, l'apertura, inizio a richiudere la mia argilla spingendo col palmo in questo modo qui e tenendo con questo pollice il bordo, pressando il bordo della mia argilla, quindi comincio a sollevare le pareti, quindi stringo, vado verso l'alto, vado lievemente verso il centro, in questo modo qua lascio come al solito sempre molta più argilla qui sul bordo superiore, richiudo un pochino, in questo modo qui, continuo a sollevare l'argilla dal fondo dove sento che ce n'è di più, quindi spingo un poco verso l'alto e un poco verso il centro, in questo modo qui, qui lascio più argilla, tolgo l'acqua dal piatto, dall'interno, inizio a stringere completamente il mio cilindro, in questo modo qui, quindi controllo, porto sull'eccesso, qui lascio più argilla, e inizio a dargli con la spatolina a spingerlo verso l'esterno per creare la parte inferiore del cilindro, in questo modo qui, quindi inizio a stringere questa parte superiore, in questo modo, quasi completamente, stabilizzo il bordo, qui posso salire ancora un poco, qui che c'è più argilla, ok, in questo modo qua, e provo a chiudere completamente, quindi stringo, quando è possibile tolgo questo dito, stringo completamente, stringo così tanto da togliere l'argilla che non mi serve, lo rifaccio, adesso, prima di spingere superiormente in modo da chiudere questo cilindro, lo vado, diciamo, a portare lievemente con il centro, perché una volta che lo spingerò qui su, lui tenderà a svasare, quindi in questo modo qui, spingo il cilindro, anche dall'esterno verso il centro, vedete, ha creato una sorta di svasatura verso l'esterno, quindi lo vado ad asciugare e con la spatola o lo stecchietto posso spingere per dargli la forma che desidero, in questo modo qui. Rifiniamo con lo stecchietto, togliamo la parte in eccesso dal fondo, togliamo nuovamente la barbottina e togliamo un piccolo piedino. In questo modo qui abbiamo finito anche la nostra terza forma chiusa. Avete visto, è stato semplicissimo.